Concorso di SGA, più di 100.000 ai partecipanti, soltanto 8.000 verranno ammessi agli iscritti. Cosa pensa Anief a proposito? Sì, è un concorso che sta durando tre giorni, un concorso che sta selezionando neanche un candidato su 10 per le prove scritte. Noi riteniamo che questo modo di selezionare i candidati, che non prova rispetto neanche per la sufficienza che riescono a dimostrare nelle prove preselettive, sia ingiusto. Ecco perché abbiamo lanciato dei ricorsi per far partecipare comunque alle prove scritte e far misurare il merito a coloro che almeno prenderanno la sufficienza in questi quesiti che non riguarderanno comunque le competenze che devono dimostrare come DSGA. E poi ovviamente riteniamo che ci sia un'incongruenza nel mando, nella parte in cui dice che le prove preselettive si fanno se il numero è quattro volte superiore ai posti disponibili delle domande e poi in realtà vengono ammessi gli iscritti solo quel numero all'interno di tre volte superiore al limite dei posti. E tutto questo non ci sembra illogico perché se no non si facevano le preselettive. Quindi attireremo questi ricorsi e cercheremo così di far partecipare i più meritevoli sempre a questo concorso per diventare DSGA.